Ok, allora dovrei esserci, un secondo, avete tretta spaccate, preciso, preciso fino a mi dall'osseo. Ho girato un attimino la telecamera così almeno è più comodo per me riuscire a controllare perché mi sto concentrando al massimo per riuscire a fare un gran premio decente. Adesso sto facendo un po' di cazzate qui. Allora andiamo. No, ecco ti da sbagliare, porco demonio. Ok, allora ci siamo. Vediamo, controlliamo che funzioni tutto a regola d'arte. Prova. Andiamo, controlliamo che funzioni tutto a regola d'arte. Prova. Andiamo. Ok, per andare va. Mi sono un pochino allenato al gran premio, sono riuscito a fare un tempo di 1.17 con l'Alfa Romeo, però non me l'ha contato perché ho toccato il muretto, quindi il tempo che ho preso è 1.20, però avevo fatto, come potete vedere, 1.17, 1.18, 1.19, però toccavo sempre un attimo il muretto. Se non tocco il muro faccio 1.20, che è più o meno accettabile visto che facciamo 1.24, però con l'Alfa Romeo, però con l'Alfa Romeo, il che non va bene perché non ho l'Alfa Romeo. Quindi di conseguenza devo allena, cioè devo arrangiare un attimino. Ok, d'accordo, mi fai uscire da qua? Come cazzo si fa? Avanza. Scusate, ok, perfetto. Forse, forse ci sto riuscendo. Ragazzi, tutto un brivido, è tutto un brivido. Ok, siamo a quel di Monaco, dove praticamente ho fatto un po' schifo, ho distrutto 300 musetti, perso 50.000 e ci scattiamo la prima curva. Ho già messo il mio nome lì. Infatti nelle prove libere su YouTube, come immagino, ho messo praticamente io che mi sto scattando contro il muro e uno con la faccia un pochino intimidita, con la maniera già tipo aiuto. E quindi è tutto molto fluente. Ciao Lea, ciao Lea, benvenuta in questo circo, in questo Luna Park di autoscontro, che tra poco andrà inizio. Andrò a fare prima le qualifiche, è un giro unico, teoricamente dovrebbe piovere, infatti c'è pioggia, da pioggia, intanto ci guardiamo intorno, facendo finta di controllare, intanto c'è qui che alza la cresta, vabbè, se ne frega. Andiamo alla workstation, bene o male, più bene che male, anzi più male che bene, direi di provare, vabbè, a parte vabbè il motore, un assetto non come quello di prima, ma bensì, vabbè, intanto avanziamo, intanto andiamo. Andiamo all'interno del nostro, ma non piove, però nel game, nel game dovrebbe teoricamente piovere perché ci sono le gocciole, o sono le gocciole quelle lì dei biscotti, o sono le gocciole di pioggia. Il tempo è infatti da pioggia e piove. Potrebbe anche essere un bene, perché teoricamente con la pioggia, no, teoricamente non è un bene, perché porca zozza, mi schianto sull'asciutto, penso un po' col bagnato. Quindi problemi di gomme non ce ne sono, perché teoricamente basta che faccio, utilizzo quelle da bagnato. Assetto auto, andiamo a controllare, ho messo tutto questo, però teoricamente il predefinito 3 mi sono trovato abbastanza bene, però delle volte mi andavo a schiantare. Siccome sta piovendo, io direi di fare il predefinito 2. Se hai difficoltà in curva, questo assetto ti offrirà buona stabilità di infrenata o accelerazione. Quindi questo qua dovrebbe essere l'ideale. Questo qua sacrificando molto però la velocità, e quindi direi di fare questo qua. Con le gomme da bagnato, io inizialmente avevo questo, te credo che mi schiattavo ogni 2 secondi, velocità massima, estrema, zio pellegrino, cioè, dai. Allora, perfetto, dai, direi di iniziare, iniziare con questo assetto. Non potrò modificarlo, perché tanto è cosa unica, quindi direi di andare alla pista. Attenzione, tutto bagnato? Spieghiamo che si veda qualcosa. Ok. E l'avevo detta la prima curva, già. No dai, però non potevano mettere la pioggia qua, non si vede un cazzo. Però sto dietro alle aclacche, eh. E sembra che sto, minchia che figata, ci vedono pure le gocciole. Dai, qua a meno non dovrebbe piovere, però intanto sono rimaste le gocciole, le gocce. Dai. Vabbè, a parte la prima curva, non grossi incidenti, non li ho fatti, quindi, teoricamente, non vado malissimo. Eccolo qua. Però non ho taggiato la macchina, ragazzi. Attenzione. Privido. Allora, vediamo quanto sono, eh. Ultimo. Venti. 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 Che forse male male non è, eh. Eh, ho beccato un ucucudrilo, eh, che mi ha fatto buttare fuori. Tre posizioni attua. Hamilton. Botas. 1,31,7. Però ero lì, eh. E ora attendiamo con ansia la gara. No, madonna. Ho fatto 1,38. Vi aspettiamo. Addirittura il mio compagno di squadra mi ha dato 4 secondi. Quei cazzo è possibile. Vabbè, dai. Avanziamo. Avanziamo. Ma il mio compagno di squadra fa faville. Fa il fenomeno. Nel Gran Premio, teoricamente, non dovrebbe piovere. Quindi, eh, nel GP mi dovrei salvare. Non so se domani fare il prossimo Gran Premio, perché il, la Fumano mi sta, sta iniziando a piacermi veramente tanto. Mannaggia Cocodrillo che mi ha buttato fuori. Però dai, non ho fatto tantissimi incidenti, dai. Sono bene o male. Bene o male. Non credo che arriverò a punti anche a sto giro, perché effettivamente, effettivamente, è un Gran Premio che non è nelle mie corde. Allora, andiamo alla Wall Station. 20 giri, però, è nuvoloso. Andiamo. È nuvoloso. Sì, effettivamente, sì. A meno evito di danneggiarmi la macchina. C'è ragione. Mi tengo l'assetto... Boh. Però, delle volte, ti viene voglia di cercare di sorpassare. Cioè, se no... E io me la faccio con calma. Poi qualcuno si andrà a schiantare col tremuretto. Non posso essere l'unico. Io mi accontento di arrivare tra i primi 15. Anzi, tra i primi 20. Una bella corsa su strada, nel senso letterale dell'espressione. Così, Mr. Monaco, il leggendario Graham Hale, ha destrato questo evento. Le monoposto sono cambiate molto. negli ultimi 50 anni. Ma si corre ancora su queste strade affacciate sul Mediterraneo. Non c'è vittoria più ambita. Questo è il Gran Premio di Monaco. Il prestigioso circuito di Monaco di oggi non è del tutto diverso dal tracciato che fece il suo debutto quasi un secolo fa. Si tratta di 3,2 km, 19 curve, per le strade di Monte Carlo. E anche se la velocità media del giro, di circa 150 km orari, è la più bassa della stagione, i margini d'errore sono praticamente inesistenti. Quindi, questo è l'habitat naturale della Septicab. E come sempre, qui al mio fianco, nella cabina di convento, c'è un pilota di grande esperienza, Luca Filippi. Dimmi Luca, forse sta parlando di me. Come ho fatto vedere? E' l'uomo di ghiaccio. E' l'uomo di ghiaccio. Non c'era qualcosa tipo Cristian, De Ares o qualcosa. Noi di ghiaccio però vabbè, mi accontente. Dai, ragazzi, attenzione che c'è il giro di prova, non lo devo ricordare. Se no prendo uno scatolo, e lo primo spacco tutte le macchine. Potrei farlo come strategia, non dovrebbe essere male. non lo faccio come dire. Ok, dai. Non abbiamo rilevato nessun problema tecnico nella partenza di prova, ma tieni d'occhio i giri del motore alla partenza. C'è già la prima coperticcia. No, madonna, così di piano. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Ah, sì, perché c'è la curva a gomito qua. Mi scaldo le gomme intanto, poi faccio la generale sì. Perché li vedo un po' umidi. Grazie. 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 Allora, spero che la mia strategia sia una sosta sola, questa curva che mi forse. Ok, adesso è in automatico. Si, me la faccio con calma, poi quel che succede, succede. Non credo che tenterò di fare qualche sorpasso, perché effettivamente è un rischio. Allora, spero che la mia strategia sia una sosta sola, questa curva che mi forse. Allora, spero che la mia strategia sia una sosta sola. Dopo il primo giro siamo ancora nella stessa posizione. Cerca di avanzare. Rimani concentrato. Allora, spero che la mia strategia sia una scala di rispondre e rispondre. No. No, zio Patero No, dai, qua rifaccio perché non posso E che Cristo Ok, dai 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 Ok, dai, inizia Ok, dai 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 Ok, dai, dai Ok, dai Ok, dai Ok, dai, dai Ok, dai, dai Ok, dai Ok, dai Ok, dai Ok, dai, dai Ok, dai Ok, dai Ok, dai Ok, dai Ok, dai, 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 dai No! Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF Ma no, non faccio più soste, ciccio Mi andare fino a quando non arrivo al traguardo Sei ritirato Bottas Vai, non sono più ultimo Distacco dall'auto davanti, 8,4 secondi Uh, come l'ho fatta bene sta pull Dai, 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 dai Il problema è che una volta che raggiungo il compagno di squadra non devo tamponarlo No Cavoli, 1,19 ho fatto come giro Cioè sto andando a tempi di pull Eh, non di pull, però Però me la sto cavando, 1,19 Non lo facevo neanche nelle prove libere Alla prossima No, zio cani, dai, un avvertimento, sorry, no, 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 ho sbagliato qualcuno, beh, un altro che si ritira, no, 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 è uno? Eh, sto, vabbè, ho toccato un pochino. No, 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 no 11 secondi, tutto quello che stavo recuperando. No, zio pellegrino, permettetemi di farlo. No, zio pellegrino. 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 Ma io ho qualcosa ancora attivo, qualcosa del sorpasso attivo. No, zio pellegrino. 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 Togliti! Ok, l'ultimo giro è stato 1,22,2. Eh, qui la giravolo è 19. Manca un tre giri. Bandiera blu. Bandiera blu. Il distacco dalla vettura che ti precede è 21,0 secondi. Passa. Per cazzo, per sto deficiente. No, cristo diok. Non cercare il duello con la vettura dietro di te. Lasciala passare. Sì, vabbè, se proibiti di tapponarmi magari. Ok. Ok. Grazie. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Ok. 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 Mi sono danneggiato la macchia per far ripassare sto scemo. Ok. Ma c'è un'altra macchia, però non c'è la bandiera blu. No, zio Paperino. Ah, no. No, zio Paperino. Ok. 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 30 secondi. Ok Ancora La vicciarda non lo posso calconare 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 Peccato Non lo posso calconare Ora fatele anche una sosta Oggi voglio fare il nome di Carlos Sainz E' rimasto concentrato fino alla fine E' approfittato di ogni minimo errore Per scalare posizioni Allora rispetto la scelta del pubblico Ma secondo me c'è qualcun altro che merita Vedete la mia scelta ha contribuito molto di più In termini di prestazioni Tenacia costanza e soprattutto calma Questo mix rende un pilota inarrestato 1.19 io andavo con lo stesso tipo di Norris Però vabbè alla fine anche tutti gli altri 1.19 il mio giro migliore Meglio di Dele Traz Però Dele Traz Mi ha dato la merda Avanziamo Peccato Ma che cazzo dici? Ma l'hai visto che era il premio? Che il tuo compagno sia stato più veloce di Dele oggi Pensi di essere stato fortunato A non finire la gara con quell'incidente? Oh Non so quale c'è dentro Quale di tanti? Vabbè almeno abbiamo fatto più Siamo arrivati a conclusione Mentre Botta Sennò Non sono arrivato ultimo Però vabbè 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 La dovevo studiare meglio come gara Però vabbè Pazienza dai Vediamo Vediamo un po' quale sarà la prossima gara Vabbè Vabbè Allora Iniziamo un attimino A fare Questo Ricerca e sviluppo Vediamo Vediamo se possiamo investire in qualcosa Vediamo cosa ci consiglia Potremmo selezionare qualcosa del genere Telaio Eh Sviluppo Va bene Sviluppiamo Abbiamo 4 ore ma abbiamo un casino Vediamo Eh Abbiamo big money Che facciamo? Non lo usiamo? Ok sì Effettivamente mi sono L'ho fatto troppo tardi sta cosa dello sviluppo Devo iniziare sin da subito Adesso ho un casino di punti da utilizzare Però non Non li sto usando Non li ho usati Gestione del veicolo Abbiamo tutto a posto per il momento Per il momento Non personalizzo niente Vabbè Abbiamo un bel po' di entrate rispetto alle uscite Non ho idea Perfetto 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 Vediamo Prossimo Prossimo Perfetto 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 Vediamo Vediamo